Collega Mollicchione chiede intervenire, ne ha facoltà. Presidente, Mollicone 102. Sì, Mollicone 102, prego. Grazie Presidente, abbiamo adesso votato l'emendamento per riaprire le strutture sportive e abbiamo apprezzato alcune aperture da parte di alcuni esponenti della maggioranza che ringraziamo. Ci dispiace per le astensioni del voto contrario. Speriamo poi che quando si è in piazza insieme poi insomma ognuno si prenda le proprie responsabilità. Qui su questo emendamento affrontiamo il tema di un'altra filiera fondamentale per l'Italia che è appunto considerata in tutto il mondo la patria delle arti che è quella della filiera culturale, degli spazi culturali, degli spazi del spettacolo dal vivo, della filiera della danza, della musica, del teatro, degli spettacoli viaggianti che sono stati in piazza la scorsa settimana e che hanno trovato al proprio fianco Fratelli d'Italia, del circo e tutte le forme di arte e di spettacolo. Filiera anche queste chiuse, fermi, tutti gli attisti a casa, ormai non si contano più, e Fratelli d'Italia li ha incontrati tutti, non si contano più le associazioni spontanei, i comitati spontanei e vogliamo ricordare a quest'Aula che se oggi al rinominato MIC esiste un tavolo permanente creato con decreto da parte del Ministro Franceschini è grazie a Fratelli d'Italia che lo ha chiesto con due ordini del giorno, con le audizioni e alla fine il Ministro, bisogna dire, ha accettato questa Costituzione. Abbiamo chiesto però, e questa è la grande incongruenza, che questo tavolo non diventi un'occasione cerimoniale per prendersi magari un tè con i 125 rappresentanti di categoria, di associazioni, di associazioni che siedono a questo tavolo, ma che venga convocato sessione per sessione, tema per tema, crisi per crisi, comparto per comparto, quindi teatro, danza, musica, centri di produzione, gestori, e che si diano non più spiccioli o pochi ristori, ma come chiediamo in quest'ordine del giorno, facendo una valutazione economica del costo della chiusura, che ci siano indennizi veri. Perché, vedete colleghi, su questo va fatta un'ulteriore specifica. Ci sono realtà, come quelle appunto delle scuole di danza, che sono anche luoghi di cultura, di aggregazione, di produzione culturale, oltre che sportiva, che possono riaprire in totale sicurezza e che magari fanno attività appunto didattica, accademica. Ci sono poi in realtà delle incongruenze sui teatri. Noi siamo sempre stati a favore della riapertura, ma ovviamente, ovviamente, nel rispetto della stagione teatrale, dei tempi della stagione teatrale, è concordato con le associazioni di categoria. E invece scopriamo, aprendo il giornale, che il CTS ha dato l'ok alla riapertura dei teatri su richiesta del MIC e del ministro Franceschini quando, il 27 marzo, cioè quando la stagione teatrale ha la vigilia della Pasqua, andatevi a vedere un po' di storia, la Pasqua è sempre stata un periodo, diciamo, simbolicamente non positivo per lo spettacolo dal vivo, perché da tempi antichi c'era addirittura il fermo dello spettacolo. Da qui poi la tradizione a non ostentare il viola negli spettacoli. Ma quindi noi abbiamo notato questa incongruenza, cioè non si può istituire un tavolo permanente come tavolo di crisi per tutte queste filiere e poi non riunirlo, non consultarle in maniera ufficiale per stabilire i tempi e i modi, i tempi e i modi, colleghi. Sapete qual è la percentuale che il CTS ha posto per la riapertura dei teatri, dei luoghi dello spettacolo dal vivo, dello spettacolo viaggiante? Il 25%. Ebbene, ditemi voi, ma questi tecnici o presunti tale del Comitato Tecnico Scientifico sono mai andati a un teatro, in un teatro? Hanno mai parlato con un gestore, con un centro di produzione, con una compagnia teatrale? Non sanno che per la sostenibilità economica già non basta la biglietteria, ma proporre il 25% vuol dire non conoscere questo mondo. Non sapere come funziona questa economia, che è l'economia culturale, che è un'economia che vale miliardi sul PIL. E per cui noi chiediamo con questo emendamento di sostenere queste categorie. Sappiamo che non lo voterete, ma ve ne dovrete assupere la responsabilità in ogni sede. E chiediamo fin da ora che nel DL sostegno non ci siano gli spiccioli. Ieri il ministro Franco, il supertecnico, collega l'invito a concludere, è venuto in audizione con il suo garbo da tecnico istituzionale e sembrava fosse un passante. Chi sta facendo questo piano nazionale della rinascita e della resilienza per queste categorie? Ditecelo, magari la McKinsey. Grazie.